Perché tu puoi avere la forma fisica che ti pare, puoi avere la tecnica che ti pare, una strategia formidabile, ma se hai paura dello scontro, il cervello quando è in crisi, come si comporta? La persona sotto stress si comporta come una persona stupida. Quello che vi sto dicendo non me l'ha detto un neuroscienziato, però me l'ha detto invece un addestratore dei corpi speciali della polizia, dei carabinieri, scusate. E guardate che io quelle volte che l'ho osservato è proprio così. Faccio degli esempi molto veloci. Non lo so come si comporta una persona sotto stress se scoppia un incendio allo zucca, non è mai scoppiato. Noi pensiamo che la prima cosa che fa, tutti fuori, tutti fuori, chiami l'emergenza, uno, uno, due, e c'è un estintore là, uno lì, magari provi a portarti avanti. Penso cose del genere, penso. Uno stupido che fa, non farà niente di tutto questo. Magari uno stupido si va a nascondere al bagno che c'è via d'uscita. Cioè devo dare per scontato che farò così, perché quello è come si comportano le persone sotto stress. Come faccio io a non agire come uno stupido sotto stress? Mi addestro a seguire le procedure? Sì, ma non funziona. Mi addestro a stare sotto stress. Perché a forza di stare sotto quello stress, quello che mi stressava la volta prima, poi non mi stressa più. Perché sotto stress le mie capacità totali, fisiche e mentali, vengono proprio ridotte. E quindi se io mi abituo posso usare finalmente il 100%. Tant'è che vedi i campioni che stanno sul ring tra un round e l'altro, stanno seduti, magari hanno un occhio chiuso, magari hanno un taglio all'arcata sopraccigliare, magari stanno pure sotto come punteggio di round, però stanno lì, presenti, quello gli parla, ok, ci sono. Cioè non sta accadendo niente, che gli sconvolge la vita. Il campione differisce dalla maggior parte delle persone non perché sa più tecnica. Perché se io prendo un ballerino che sa guardare un movimento e te lo rifà perfetto, se prendo un ginnasta che ti guarda con la coda dell'occhio e lo fa 100 volte meglio di te quella coreografia, lui ti potrebbe battere tecnicamente. Ma il campione di combattimento che cosa ha che lo contraddistingue veramente è che lui mantiene la calma dove altri perdono la presenza. Lui sta lì con una costola rotta, con un ginocchio dolente, con la testa che fa buuuu perché Mario è andato al tappeto e sta lì all'angolo che sa in quei 60 secondi che gli arrivano i suggerimenti sulla strategia come il pilota di Formula 1 quando passa i box. E lui potrebbe andarsene perché non è difesa personale che l'hanno aggredito e non può scappare perché è chiuso un angolo. In qualsiasi momento l'atleta può stare in braccio e dire guardate, non mi va più. Non lo fa l'atleta perché è un super uomo. È un super uomo che nel dolore, nella pericolosità, perché con un match tu puoi morire, lui mantiene la presenza. Nell'infortuno lui sta lì e ricorda il suo piano. Questo è il top di quello che noi dobbiamo aspirare. Poi, ok, avrai una carenza tecnica. Ok, fisicamente puoi non essere preparato. È secondario, perché se tu hai paura ti saltano tutte le strategie, ti salta tutta la tecnica e ti salta tutta la dote atletica. Per iniziare sto percorso riguardo il contatto faremo l'esercizio più bello del mondo. Spalle al muro, quello mi colpisce e io faccio le mie difese. Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuga Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione. Grazie. 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 Grazie.